Sei arrivato a Nocera in un periodo un po' particolare dal punto di vista societario, però sei arrivato in concomitanza con la vittoria che ha riaperto il campionato della Nocerina e ovviamente servirà da trampolino per un girone di ritorno da fare a mille chilometri orari. Sì, diciamo che sono arrivato in un momento un po' strano, ancora devo un attimo ritrovarmi sotto il punto di vista societario, però sono arrivato in un momento giusto perché abbiamo portato a Cassi tre punti contro il Troina e ora ci prepariamo al girone di ritorno con le massime forze mentalmente e fisicamente. Accoglienza da parte del gruppo? No, è un gruppo fantastico, bravi ragazzi e mi sono subito trovato a Cassi, su questo non posso dire niente, tifoseria, gruppo, bello. Speriamo di risolvere altri problemi che secondo me si risolveranno senza problema nel 2018. Girone Caldo si riparte con l'avversaria probabilmente più tosta da affrontare dopo le festività natalizie, però lo stesso discorso potrà fare la Vibonese. Sarà ovviamente il big match di giornata, che partita ti aspetti, che avversario vi aspettate? Innanzitutto saranno due squadre, noi e loro cariche mentalmente perché comunque sia nessuno vuol perdere, quello ci mancherebbe altro. Loro giocheranno in casa, quindi avranno un vantaggio in più, ma dalla nostra noi abbiamo i tifosi che ci seguono ovunque, come abbiamo visto anche a Troina, sono venuti là a seguire la squadra. Sarà una bella partita, sarà una partita aggressiva, sarà una partita che si evolverà tatticamente e poi le giocate dei giocatori, quello conterà molto. Punto di vista personale, percentuale di integrazione nelle idee tecniche e tattiche dell'allenatore, visto che ha dimostrato nel giurione d'andata, tu ancora non c'eri, che questa squadra può giostrare nella zona centrale del campo sia a tre che a due. Io comunque sia il mister già conoscevo perché l'anno scorso ho giocato insieme all'Aquila, quindi le idee sono quelle, lui vuole quello e noi si cerca di mettere in pratica quello che vuole lui. Sappiamo benissimo che se facciamo quello che vuole lui porteremo a casa dei ottimi risultati.